Eccoci qui allora nel post gara di Fiorentina Basket, Libertas Livorno con Jacopo Lucarelli, grande prova per te e vittoria che vi porta a meno due da Omenia dopo la sconfitta di Omenia contro Pavia di ieri. Omenia se non sbaglio ha vinto oggi a Piombino, Milano scusa, è stata una buona prova oggi, loro si erano rinforzati durante il mercato invernale, siamo stati bravi a tenere sempre la testa avanti e non faccio mai rimontare. Qualche callo c'è stato durante la partita e per la Coppa Italia bisogna mettere a punto qualche cosa per migliorare questa cosa. Ecco appunto ora vi preparate per questa grande avventura alle Final 8 di Coppa Italia di Serie B a Fabriano, primo incontro nei quarti contro la gestistica Sansevero, sarà una partita complicata però voi ci siete intanto. Noi ci siamo, è il primo traguardo storico della società, siamo orgogliosi di aver portato la Fiorentina Basket e la città di Firenze a questa competizione, noi faremo il nostro meglio. Sansevero è prima nel suo girone con poche sconfitte. Vedi, lo sapevo. Insomma, noi daremo il 100%, anzi il 110% per andare più là possibile in questa competizione. E poi dritti verso la post-season? Quello è ovvio. Cercando di portare anche lì più avanti il traguardo e di migliorare quello che si è fatto l'anno scorso arrivando alle semifinali, cerchiamo di fare qualcosa di più. Grazie mille.